Mi chiamo Rosa Ruffa e ho deciso di fare il volontario per la Family 2012 proprio perché è una cosa che mi fa star bene, che mi fa aiutare gli altri, perché è un avvenimento a livello mondiale per tutte le famiglie dove ci si riunisce e si discute sulle varie problematiche attuali, sperando sempre in un mondo migliore.